È stato fermato con un pericoloso pugnale con una lama di ben 17 cm all'interno della stazione di Bibiena dai carabinieri. L'uomo, un cittadino straniero, è stato così denunciato per porto abusivo di coltello e l'arma bianca è stata sequestrata. Si tratta di una delle operazioni condotte dai carabinieri della compagnia di Bibiena nella notte scorsa in Chesentino. L'arma infatti ha organizzato controlli per garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite. Sono state impegnate numerose risorse e l'attività si è conclusa con diverse operazioni di verifiche e di intervento come controlli su strada e una serie di perquisizioni. Proprio al termine di una perquisizione nell'abitazione di un pregiudicato, i militari hanno trovato dell'Ashish. L'uomo è stato così segnalato. In totale sono stati fermati 62 veicoli. I militari hanno poi identificato 114 persone ed elevato sanzioni al codice della strada per circa 5.000 euro, oltre al ritiro di una patente di guida ad un soggetto che si era messo al volante dopo aver abusato di alcolici.